Non si attenua l'ondata di furti sul territorio comunale di Capaccio. A finire nella rete dei ladri è stata questa volta anche la struttura utilizzata dal locale circolo di Lega Ambiente, presiediuto da Pasquale Longo, quale Infopoint nell'oesi dunale di Pestum, situato in località Torre di Mare. I ladri si sono introdotti nei locali dell'associazione dopo aver effettuato un foro nella parete della struttura che ha consentito loro di accedere all'interno. Magro però il bottino rimediato dai malviventi. All'interno dell'Infopoint, spiega infatti il direttore dell'oesi dunale Lucio Capo, non c'è nulla di valore. I ladri hanno rubato soltanto olio, zucchero e caffè. I costi per riparare i danni effettuati addirittura sono di gran lunga superiori a ciò che è stato trafugato. L'oesi dunale rappresenta un'area davvero bella del nostro territorio, ma subisce troppo spesso degli atti di vandalismo. In questo caso crediamo si sia trattato di disperati, visto che hanno portato via solo generi alimentari, un furto probabilmente effettuato per fame. L'oesi al suo interno, come detto, non contiene oggetti di valore. Adesso dovremo però provvedere a riparare i danni. Capo poi conclude. Legambiente ha consegnato un progetto di mesta in sicurezza dell'area e stiamo aspettando che il comune di Capaccio faccia qualcosa. È necessario sistemare le aree che durante l'inverno restano abbandonate, anche per evitare che subiscano atti di vandalismo e danneggiamenti. Non è la prima volta, purtroppo, che questo tratto naturalistico dunale di Capaccio, affidato alle cure di legambiente, venga preso di mira dai balordi. In più occasioni sono state anche asportate parti della ricinzione in legno e danneggiati i sentieri. La stessa struttura in legno, creata per i diversamente abili, è finita nel mirino dei mandali.